Salve, sono un conduttore della televisione che tra i tanti titoli che ha presentato e rappresentato in televisione ce n'è uno che diceva, citava Marchette, Marchette con la K, cioè la promozione smascherata in televisione, qui non siamo in tv, siamo in un surrogato ma la Marchetta rimane, eccola, questo libro che si intitola L'inquilino lo ha scritto il signore che mi sta riprendendo, il mio caro amico da tanti anni tutti i giorni prende il treno e mi raggiunge, parte dalla Valle di Suga e arriva fino a Torino, ma se io sono a Milano lui prende sempre il treno da Valle di Suga e arriva a Milano, se per caso decidessi di andare a Roma, lui prende il treno da Valle di Suga, sempre che il treno ci sia ancora e viene fino a Roma, oggi mi chiede di recensire, di lanciare, di promuovere questo libro che io ho letto a spizzichi e bocconi, direi che è un libro che si legge volentieri prima e dopo i passi, ve lo consiglio, L'inquilino, dedicato a tutti gli amministratori di palazzi e stabili in città, che pagano l'invito.